Si parla del referendum in Crimea per decidere da parte degli abitanti di quella penisola se essere russi oppure ucraini. Credo che la cosa giusta e migliore sarebbe se decidessero di essere una Repubblica indipendente per evitare una possibile guerra poi interna civile tra chi non vuole essere quello che vorranno i vincitori. È un po' la stessa storia del veto che vuole essere indipendente. Francamente non so se mi trovassi a votare se voterei per l'indipendenza del veto ma certamente voterei contro un'idea di veto che diventasse austriaco piuttosto che sloveno. E allora mi fa strano sentire quando qualcuno ha ipotizzato, non ho ben capito se davvero o malinterpretato, che la Lombardia diventasse parte della Svizzera, la Val d'Aosta francese e l'Alto Adige diventasse una parte dell'Austria. L'Italia è strana, c'è un referendum in vista digitale per dire se il veto vuole o meno rimanere italiano. Mi domando se sia un dovere votare, mentre certamente è un dovere permettere che si possa votare.